Sì, sono fiero del mio lavoro. Io convinco dei dirigenti irresponsabili a mollare. Gente che al massimo può organizzare un torneo di PlayStation. Ingolfano Maserati, questi qui sono le cavallette. L'azienda di mio padre non mi interessa niente, per cui fammi fermare quelle carte. Ecco, io li faccio fuori. Mi ascolto, loro mi conoscono, si fidano e si convincono da soli. Dimmi come l'hai fatto. Ho ballato per 12 ore. Sì, sono fiero del mio lavoro. Ciao. Oddio! Nicola, tuo fratello? Cosa c'entra il mio fratello Nicola? Gave me the keys, chiavi. Ok, wait, wait, wait. Ho dovuto dire a quelli del lavoro che sei la mia assistente, se no era un problema. Quindi dobbiamo mandare a casa qualcuno? Mamma e papà non l'avrebbero mai fatto. Dottor Giusti, perché non dice qualcosa a lei? Si devono fidare, no? L'importante è che sappiano quello che vogliono sapere. È uno di loro. È solo più giovane. Tu fai finta. Fai finta con Camilla e il suo fratello. Tu fai finta e tu non puoi fare così. Rico, mi posso fidare di te. Vi ho spiegato la realtà, invece fate quel cazzo che volete senza dire niente a mia Camilla. Tutto giusti, ottimo lavoro. Che stupido, vedrai. Leonardo Di Caprio porta nel cinema lo scandalo Volkswagen. Per questa e tante altre notizie, curiosità e ovviamente trailer, cliccate qui. Eh sì, vi ho detto tutto. Sì, sì, sì. Allora cliccate qui per rimanere con me. Ciao, al prossimo video. Ciao, al prossimo video.